Ups a tutti, miei cari upsini e upsini, come state? Come, come, come state? Spero bene, dai. Veramente, veramente bene. Bene, oggi sono qui solo per voi, per fare un video dove cercherò di far provare tingles, a chi non li provava da un po', quindi cercare di farvi tornare quei privitini alla schiena di rilassamento esiste come parola. Va bene, perciò indossa subito un paio di cuffie auricolari e stenditi sul tuo letto. Va bene? Io inizio subito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo subito avanti. Ho qui questo vecchio pettinino per le sopracciglia e ci faremo un'altra cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è più strano da fare. Ok, ok, dai, basta. Ok. Ok, dai, basta. fare un trigger che non ho mai fatto. ho qui dei bastoncini che sono quelli che tu metti nei profumatori, quelli per la casa. veramente bello. E' veramente bello. E' veramente bello. Oop. 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 Ok, basta. Ok, basta. Oop. Ok, basta. Oop. 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 Ok, basta. Il prossimo trigger l'ho comprato molto. Molto, molto, molto recentemente è un daily planner che ho preso da Tiger Grazie a tutti Grazie a tutti Ok 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 ci finisce qui, ma se tu vuoi stare ancora insieme a me, io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua sotto il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai, quindi io ora ti mando un grande bacio e buonanotte, buonanotte